Tutto ciò è ridicolo, Wright. Vostro onore, ma sta dormendo. Cosa? No, colpevole! Cosa? No, no, ti prego, Maya, quelle sono prove. No, 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 perché, perché sei così? Io ho obietto! No, signor Wright, lei è umano. Ehm... È vero che ha un interesse particolare in questo caso ed ha un bel coraggio a distorcere informazioni ad un procuratore del mio calibro. Poco professionale, direi. Ed ha interrotto il mio te... Unix Wright sarà la difesa. Ehi, Edgeworth! Immagino tu sia in salute. Wright, ho portato i documenti e del vino. La testimonianza contraddice la prova! No? Cazzo! Edgeworth, dopo tutti questi anni, posso dire con sicurezza che sei un rispettabile procuratore. Hai un culo della madonna! In vero, Wright, aggiungerei anche che sei un onorevole e temibile avvocato difensore. Edgeworth! Wright, stavo rivalutando l'ultimo caso e volevo farti notare che... Perché il tuo ufficio è pieno di ragazzi e adolescenti? Ehi, capo. Dicono che Wright abbia di nuovo la sua medaglia ed è pronto per il primo caso. Fantastico. Fare in modo che accadesse mi è costato un bel po' di favori. Spero che mi renda fiero. Dicono che rappresenterà un'orca. Ma certo! È ovvio che Phoenix Wright usi questa incredibile opportunità che mi deve per rappresentare un'orca! E quel ninja che stavi aiutando sarà l'accusa. Ma certo! Ma certo! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito!